Alberi malati lo dice l'analisi Visual Tree Assessment condotta da una ditta specializzata in materia ambientale che ha evidenziato la pericolosità di diverse alberature del Parco Arborio Cittadino. Gli alberi considerati malati presenterebbero grosse buche all'interno del tronco come quelli che sono stati abbattuti non senza polemiche nella storica piazza annunziata. Secondo quanto riportato dall'analisi della stabilità con il metodo VTA, le piante della piazza avrebbero potuto mettere a rischio l'incolumità dei cittadini. Come Comuni di Angri abbiamo da sempre, dal 2016, effettuato un VTA su tutte le alberature comunali che è un esame specifico che si fa sulle alberature. Questi esami vengono fatti da ditte specializzate e nel nostro caso l'azienda che ci cura le analisi del VTA è un'azienda rinomata a livello nazionale e a febbraio si è portata in piazza annunziata per i soliti controlli che si fanno sulle nostre alberature. Da questi controlli effettuati è uscito fuori che purtroppo questo pino era classificato in classe D e quindi a rischio schianto c'era un pericolo serio per la pubblica e privata incolumità e quindi abbiamo purtroppo nostro malgrado dovuto decidere di abbatterlo. Insieme a questo anche quelle piccole rubinie che sono sul lato opposto della piazza perché avevano completamente invaso e corrotto il pavimento stradale sotto nelle fognature. In aiuti del settore ambiente per il rifacimento della storica piazza cittadina potrebbero essere intercettati finanziamenti dedicati come sottolinea l'assessore. Abbiamo già fatto richiesta al CIS che è un fondo specifico per il sud per un intervento di rifacimento totale di tutta la piazza annunziata un finanziamento di circa un milione di euro, adesso non ricordo bene la cifra. Se questo finanziamento ci verrà assegnato noi rifaremo l'intera piazza perché l'intera piazza dovrà essere rifatta in quanto anche i marciapiedi sono ormai non più praticabili si dovrà rifare tutta la pavimentazione e quindi c'è un intervento radicale che questa amministrazione ha messo in progetto in cantiere. Il lavoro condotto dall'ufficio ambiente proseguirà anche in altre zone della città ed in particolare in via Montetaccaro. Insieme a questi abbattimenti sono stati previsti due abbattimenti in villa comunale sempre per due alberature che hanno raggiunto il fine ciclo di vita e bisogna urgentemente abbattere le alberature che sono site in via Montetaccaro in quanto ormai hanno completamente compromesso la pavimentazione stradale hanno invaso tutte le fognature e sono ormai pericolose anche per i cittadini perché potrebbero schiantarsi al suolo da un momento all'altro. Anche sulla manutenzione ordinaria del verde cittadino l'assessore Daniello fa alcune precisazioni evidenziando la carenza di personale specializzato all'azienda speciale Angri Ecoservizi. I cittadini hanno ragione in quanto non è mai abbastanza quello che si fa naturalmente bisogna tenere conto che con solo sei operatori addetti al verde per un territorio di 15.000 metri quadrati va da sé che è quasi impossibile coprire contemporaneamente tutte le aree delle zone della città. In questo momento gli operatori sono impegnati alla manutenzione del verde di tutti i plessi scolastici per permettere e consentire l'inizio delle nuove attività scolastiche. Infine l'assessore rassicura sulla pulizia di tombini e caditoie che con le piogge estive hanno già creato criticità al sistema urbano. In questo momento l'azienda sta effettuando la pulizia di tutte le caditue e di tutte le griglie su tutto il territorio comunale. Abbiamo iniziato lunedì scorso e se continuerà per tutto il territorio comunale.